Amici miei, ciao, buona domenica, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Sì, oggi vi racconto per l'ennesima settimana tutte le mie ultime letture. Due cose, mamma mia che caldo, e la seconda, come al solito, pensavo di leggere poco, e invece ho letto un bel po' di cose e parliamone con calma. Allora, prima di tutto, partiamo da una lettura che procede molto, molto, molto a rilento, ovvero Homo Deus di Yuval Noah Harari. Mamma mia, questo libro veramente è diventato pesantissimo, complice soprattutto il caldo. Ve lo dicevo in uno degli ultimi video, ve lo ribadisco anche in questo. Dovrei fermarmi con questa lettura, prendermi un pochettino di pausa e poi riprenderla. Ci devo provare, anche perché davvero la lettura sta diventando molto pesante, procedo davvero di pochissime pagine a settimana, quindi penso che mi fermerò un attimino e probabilmente ad agosto non leggerò quasi nulla, anche perché nella mia testolina si è insinuata l'idea che devo concludere questo libro, altrimenti non riesco ad andare avanti con altre letture. A questo motivo, cioè fondamentalmente al caldo, aggiungiamo anche un'altra cosa, e cioè aggiungiamo il fatto che, sempre nella mia testa, si è insinuata forte l'idea che io devo concludere un'opera manga davvero imponente, gigante, qual è One Piece. E di fatti, come vedete, questa settimana non mi porto a casa un solo volume, me ne porto due. Sto accelerando tanto sulla lettura di questi volumi, proprio perché ho ancora altre cose da leggere e quindi voglio un pochettino sbrigarmi per completare, almeno nella mia testa, la lettura di questi numeri e mettermi in pari con la pubblicazione italiana della serie bianca. Questa settimana ho letto il numero 87 e il numero 88. Inutile dirvi che, secondo me, un elemento che caratterizza molto bene l'arco narrativo di Big Mom è la frenesia della storia. Davvero, io quando ho letto questi due numeri l'ho fatto con una frenesia e con una voglia di scoprire dove andrà a parlare la storia incredibile. Colpi di scena su colpi di scena che manco ve lo sto a dire. Se avete letto questo arco narrativo sicuramente lo saprete. Se avrete visto l'anime, a maggior ragione avrete vissuto con quella frenesia la storia e gli avvenimenti, le vicende dei nostri protagonisti, dei nostri personaggi, davvero One Piece sempre una lettura di altissimo livello. Sono al numero 88, devo arrivare piano piano al numero 100, praticamente perché posseggo i primi 100 numeri di One Piece, quindi vedremo nelle prossime settimane come procederà. A questo punto, rimanendo sempre in casa Star Comics, vi voglio mostrare praticamente l'ultima lettura che ho fatto, che è un'uscita settimanale, ovvero il numero 26 di The Seven Deadly Sins. Gli aggettivi ormai... di aggettivi ormai non ce ne sono più. Sto adorando The Seven Deadly Sins, lo sto adorando perché mi piace molto la storia, mi piacciono molto i temi e soprattutto mi piace molto come viene raccontata la storia. All'interno di questo numero ci sono tanti colpi di scena, vediamo finalmente il reale aspetto di Gauter e soprattutto scopriamo tante cose sul suo passato e sul passato dei nostri personaggi, cosa è successo 3.000 anni fa e soprattutto incontro a cosa si sta andando adesso, nella storia, nella linea temporale principale dei nostri personaggi. The Seven Deadly Sins mi sorprende sempre di più, ma da un lato mi sono anche abituato a questa lettura, che secondo me davvero è... non è solo molto gradevole da portare avanti, ma è anche molto stimolante. Un'opera davvero, davvero di livello. Detto questo, passiamo all'altra casa editrice, della quale ho letto tanto questa settimana, ovvero Planet Manga. Ma facciamolo con calma, mi sistemo un attimino le letture, perché ci sono dei blocchi un po' particolari dei quali vi voglio parlare. La prima opera è sempre un recupero settimanale, ed è il numero 14 di Bleach. Bleach si riconferma, proprio come The Seven Deadly Sins, un grande recupero. E non lo dico solo perché sapete che sono innamorato dell'edizione Gazzetta, ma soprattutto perché la storia, almeno in questi primi 14 numeri, davvero mi ha trasportato tantissimo, e lo fa a maggior ragione all'interno di questo numero 14, perché finalmente entra in gioco una psicologia molto profonda dei personaggi, anche per quanto riguarda Ichigo Kurosaki. Lo era stato nel numero 13, lo diventa in maggior ragione nel numero 14, dove entrano in gioco dei personaggi ancora più famelici, personaggi ancora più tosti, difficili da affrontare, e si arriva finalmente a un punto della storia in cui ci viene mostrato il reale aspetto di uno dei personaggi. Non voglio farvi spoiler, anche perché non so se avete letto Bleach, se avete letto questo numero 14, ma un personaggio che aveva già un peso particolare nella storia, finalmente si mostra, e come si mostra, davvero tanta roba questo numero 14. Passiamo al volume numero 5 di questo manga qui, ovvero di Soul Eater. Soul Eater, un manga iniziato per curiosità, davvero, mi intrigava tantissimo l'edizione, mi intrigava un pochettino la storia, e qualche disegno che avevo visto. Vi ripeto, associavo a suo tempo i disegni presenti in Soul Eater un pochettino a Shaman King, non so per quale ragione, per certi versi sì, abbastanza simili, per certi versi molto diversi, belli i temi, belli, 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 davvero i temi all'interno di questa storia. Il volume numero 5 di Soul Eater me lo sono sciroppato davvero in un'unica sessione di lettura, molto velocemente, la storia è bella, entrano in gioco nuovi personaggi, disegnati, secondo me, magistralmente, davvero, davvero bene, e soprattutto, vengono introdotti degli intrecci di trama molto interessanti. Alcuni personaggi che pensavamo essere scomparsi, riappaiono, riappaiono in una forma abbastanza violenta, e soprattutto abbastanza inquietante, e davvero, i nostri protagonisti, i nostri personaggi, si troveranno ad affrontare una serie di vicende, secondo me, molto interessanti, sia da un punto di vista fisico, a livello di combattimenti, sia da un punto di vista psicologico, per chi viene introdotto a maggior ragione, all'interno di questo numero, il tema della follia, e della risonanza della follia, se avrete letto mai Solitaire, capirete di cosa sto parlando. Tanta roba, tanta tanta roba. A questo punto, però, arriviamo a delle letture che mi hanno permesso di intrecciare il fumetto occidentale, nello specifico, quello americano, con il mondo orientale, il mondo giapponese, perché ho letto delle storie, secondo me, da un lato super interessanti, e dall'altro lato, super divertenti. Faccio riferimento a queste opere qui. La prima è Secret Reverse di Katsuki Takahashi, l'autore di Yu-Gi-Oh, il compianto autore di Yu-Gi-Oh, e l'altro, invece, è Deadpool Samurai. Ma parliamone con calma. Partiamo innanzitutto da Secret Reverse, questa storia di Spider-Man e Iron Man, disegnata appunto da Katsuki Takahashi, il disegnatore di Yu-Gi-Oh. Quando ho acquistato questo manga, sono sincero, mi sono documentato semplicemente su due cose. Sulla presentazione generale, quindi questa storia disegnata da quest'autore, e dal prezzo. Prezzo di copertina 10 euro. Pensavo fosse un classico Tankobon, dimensioni e grandezza di un Tankobon, o al massimo fosse un volume tipo Deadpool Samurai, un pochettino più grande rispetto ai classici Tankobon a cui siamo abituati. In realtà no, come vedete è un bel manga, cioè questo è paragonato alla mia mano, che non è grandissima, ma comunque è quasi il formato di uno spillato, di uno spillato americano, con l'unica differenza che però è un cartonato, quindi ha una bella copertina rigida. La cosa che mi ha lasciato davvero molto sorpreso di questa storia, che alla fine fondamentalmente è una storia di combattimento, quindi nulla di così trascendentale, è un volume unico, ma è soprattutto la colorazione. Vi voglio far vedere giusto una tavola che secondo me è davvero tanta roba, che è questa. I disegni sono di Katsuki Takashi, sicuramente, ma la colorazione che non so se potrete apprezzare, ma è davvero fatta in maniera super, davvero sembra un comic americano, un fumetto americano, con il tratto tipico di Katsuki Takashi. I casi della vita pensavo di leggere come sua prima opera, Yu-Gi-Oh! invece mi sono ritrovato a leggere questa storia qui, però tanta roba, c'è tanta roba. Se siete amanti del personaggio di Spider-Man o comunque di Iron Man e volete mettere insieme questi due mondi che sembrano così distanti tra loro, ma in realtà non lo sono poi tanto, beh, recuperate questa storia. Recuperate questa storia così come del resto dovreste recuperare questi due volumi di Deadpool Samurai. Eccolo qui, ve lo mostro, vi mostro entrambe le copertine. sicuramente ci avrete fatto caso, sicuramente se le avrete già viste vi sarete resi conto che questa è una delle copertine di Demon Slayer e questa manco ve lo sto a dire e praticamente riprende la copertina del numero 42 di Dragon Ball. Allora, che cosa vi posso dire? Poche cose, cioè mi sono letteralmente sconfisciato dalle risate leggendo questi due manga. sapevo di questa caratteristica di Deadpool di essere un personaggio molto divertente che sfonda la quarta parete ma lo fa del resto anche nei film come abbiamo visto ma leggerlo su manga leggere questi adattamenti manga è stato davvero una cosa super divertente. Da un lato i disegni sono veramente tanta roba e fidatevi perché i disegni sono tanta roba ma dall'altro forse l'elemento al quale io personalmente non ero abituato e al quale mi sono dovuto abituare nella lettura di questi due manga è la comicità del personaggio cioè Deadpool davvero fa tanto ridere e secondo me è una comicità che funziona oltre al fatto che davvero il personaggio gli autori l'autore di questo di questo manga riesce a trasportarci tanto nella storia una storia che si trova all'interno delle pagine ma che esce anche fuori dalle pagine non lo so forse è difficile comprendere questi concetti quindi dovreste leggerli probabilmente non sono neanche io bravo a raccontarvela questa cosa ma davvero tanta roba nel corso della storia ci viene consegnato di leggere la versione in cartaceo e non quella in digitale e fidatevi che fare una lettura cartacea di questi due manga è tanta roba davvero tanta roba vi ripeto questa settimana ma io non pensavo di riuscire a leggere così tanto e invece invece ce l'ho fatta cioè mi porto a casa tante letture mi porto a casa tanti manga tante storie insomma mi porto a casa come vedete un bel malloppo un bel malloppo di cose sono estremamente soddisfatto perché sono riuscito a leggere tanto mi avvio verso un periodo durante il quale non leggerò tantissimo quindi vabbè poi ne parleremo con calma perché a causa del lavoro del caldo e un pochettino di relax ci vuole quindi mi fermerò però davvero tanta roba anche questa settimana grazie per essere stati con me se ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella lo sapete è una cosa che potete fare in maniera assolutamente gratuita noi ci rivedremo nei prossimi appuntamenti vi prometto ogni volta che forse ritornerò con più appuntamenti a settimana però col lavoro ancora non riesco a organizzarmi bene e a portarvi più video quindi molto probabilmente ci rivedremo direttamente domenica prossima con un nuovo video chi lo sa che cosa ci riserverà questa settimana io spero di leggere tanto e bene come ho fatto questa settimana e di potervelo raccontare su questo canale ciao e di nuovo buona domenica e di nuovo Grazie a tutti.